Oltre 250 mascherine, sia per adulti che per bambini e ragazzi, donate questa mattina dall'Associazione Scuola e Vita di Andria all'Istituto Comprensivo Mariano Fermi. Un'iniziativa nata dalla volontà di ringraziare la scuola andriese per il lavoro svolto in questo delicato periodo, assicurando con tempestività la doppia opzione di scelta per le famiglie. Noi abbiamo voluto in questo momento riconoscere i meriti di questo istituto nella persona del dirigente scolastico Roberto Crescini, che ha saputo garantire davvero la doppia didattica, come purtroppo non è successo in altri istituti, con i quali non voglio polemizzare perché è anche vero che si sono ritrovati in Puglia a gestire una situazione che è tutta pugliese, quella della doppia didattica. E quindi ci troviamo in una situazione sotto certi aspetti paradossale, dove a livello Italia anche nelle zone rosse è garantita la didattica ed c'è solo un tipo di didattica, che è quella in presenza fino alla prima media. E qui da noi ormai sono sette giorni che siamo anche in zona gialla, ieri abbiamo visto assembramenti di ogni tipo, anche per i regali, anche con i bambini in giro. E si continua invece ad avere questo atteggiamento di chiusura verso la presenza scolastica. Non sono mancate le difficoltà però in un momento in cui gli istituti scolastici hanno dovuto affrontare un cambio così repentino, in particolare in Puglia, dove la doppia possibilità di scelta tra didattica a distanza e didattica in presenza ha costituito un banco di prova davvero complesso. La scuola è un servizio pubblico, è importante, è fondamentale e quindi si dà dignità ai bambini che sono venuti, ai docenti che tutti i giorni hanno continuato a fare il loro lavoro, ad accogliere i bambini sempre con il sorriso, per dare tanta serenità, per dare tanta gioia, per dimostrare che anche se la situazione è difficile ma bisogna andare avanti. La speranza però, anche da chi il mondo scolastico lo vive direttamente in prima persona, è quello di rivedere al più presto i ragazzi nelle aule, anche perché le scuole sono luoghi assolutamente sicuri. Noi ci siamo, siamo pronti, ci sono tutte le condizioni di sicurezza e vogliamo che tornino tutti i docenti, anche una parte dei genitori lo vuole perché ci sono tanti rischi nel tenere i bambini a casa. L'isolamento, l'utilizzo massivo, la della dipendenza dalle nuove tecnologie, dai device, da internet con tutti i rischi che sappiamo comporta, e quindi la postura anche perché i docenti controllano se sono ben seduti e cose le attività sportive. Insomma, sono tanti motivi per cui è opportuno che continuino i bambini e i ragazzi a stare in classe.